Vivi il mondo in tutta tranquillità. Con nuova mucchina gel igienizzante mani, da oggi puoi toccare tutto. Qui, qui, e qui. Perché nuova mucchina gel igienizzante mani agisce senza acqua in soli 15 secondi. Ogni volta che vuoi. Lasciando le mani morbide e profumate. Nuova mucchina gel igienizzante mani. L'igiene a portata di mano. L'igiene a portata di mano.